non ci facciamo manca nulla comunque i miei figli mi hanno chiesto regalo e quindi noi abbiamo comprato anche il regalo con la moto mia moglie ha detto compriamo una cosetta piccola così non riusciamo a riportare a casa ero mi vabbè abbiamo preso una cosetta piccola no 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 Grazie a tutti. 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 Adesso ci mangiamo un piattino di pasta, fuori il tempo, insomma è nuvoloso, abbiamo preso una sgrullatina d'acqua, ma roba leggera perché è quella acquetta che si asciuga quando cammini, insomma niente di che, temperatura buona, dai. È stata una bella, prova ed è stata una piccola, piccolina Grazie a tutti.